Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, è terminata lo stadio olimpico, è terminata 4-0, che a memoria, a memoria, un risultato così secco in favore della Lazio non accadeva dal 94-95, quando c'era gente come Baresi, Beppe Signori, che giocava nella Lazio, Casiraghi, quindi comunque un risultato sicuramente storico e importante, quello di oggi in favore della Lazio. Lazio che sale a 37 punti, io dalla Lazio mi aspetto tanto, ma come me lo aspetto dalla Roma? Perché hanno giocatori importanti, ragazzi. La Lazio ha dei giocatori veramente forti. Poi non ha una panchina lunga, ok, ma tanto sappiamo che Sarri e i cambi sono due mondi a sé, quindi sono due mondi differenti. La panchina lunga a Sarri tanto non interessa, però ragazzi ha dei giocatori, Milicovi-Savic, giocatori incredibili. Cataldi sta facendo molto bene e lì in mezzo, mi avviso, in questa Lazio è molto importante. Luiz Alberto, io lo continuo a dire da non so quanto tempo, non mi spiego come ancora sia nella Lazio e non sia andato in una squadra big, soprattutto considerando che spesso volentieri sta anche seduto in pagina. Mi sembra una cosa inconcepibile. Felipe Anderson, un giocatore di un certo tipo. Romagnoli è stato un gran bel acquisto, per quanto io lo ritengo un giocatore che è stato per anni troppo esaltato, troppo pompato. Cioè, comunque è una squadra, Marusic secondo me è un signor giocatore, cioè il suo lo fa, non sarà un fenomeno, però il suo lo fa. La Lazio ha, poi vabbè c'è Pedro, cioè ne ha tanti, veramente tanti Lazio, i giocatori comunque importanti e interessanti. E quindi io, dalla Lazio come dalla Roma, mi aspetto che possano sempre competere per la Champions League e addirittura, in un campionato come questo, andare a lottare per il titolo. Cioè, ragazzi, secondo me la Lazio non ha niente in meno del Napoli, la Roma non ha niente in meno del Napoli, a mio avviso, sulla carta, per me. Eppure stanno lottando per un posto in zona Champions. Secondo me devono fare molto di più, molto di più in questo senso, però per le aspettative che ho io, ragazzi, ripeto, per le aspettative che ho io. Però, comunque sia, la Lazio sta facendo il suo buonissimo percorso, perché comunque 37 punti non è male. Quello che mi lascia basito di questa partita è l'atteggiamento del Milan, perché va bene fare tutti i complimenti del caso alla Lazio. Cioè, ha già fatto una grande partita, ha pressato bene, ha attaccato bene, è stata concreta. Però, ragazzi, il Milan ha già preso dei gol imbarazzanti. La difesa oggi non... inesistente. Non si possono prendere gol così. Il primo gol, la difesa tutta ferma. Il gol di Zaccagni, Mario Ruizic che va via così, con semplicità e facilità, e poi tutti si perdono. Zaccagni che, di tap-in facile facile, la butta dentro. Il calcio di rigore è un altro errore difensivo. Il gol di Felipe Anderson, difesa di nuovo ferma, praticamente, passiva. Che non si sa cosa stesse pensando, cosa stesse facendo. Cioè, Stefano Borchi ha usato una parola che è disorientato. Il Milan sembrava disorientato. Io dico proprio che il Milan ha perso la bussola. Cioè, dalla partita con la Roma, che si è fatto a fare quei due gol nel giro di pochi minuti, il Milan non ci sta capendo più nulla. Non è un Milan disorientato, un Milan che ha perso la bussola. Perché poi, nel primo tempo, il Milan inesistente. Nel secondo entra dagli spogliatoi, come è successo con Lecce, cercando di forzare un po', ma alla fine non ha creato nulla lì davanti. Nulla. Io l'unico tiro, che ricordo, pericoloso, è la punizione di Ben Asser, leggermente deviata, direi, da Milinkovic-Savic, che termina fuori dai pali di poco, ma ragazzi, troppo poco. Leao non si è praticamente mai visto. Mi è piaciuto solo quando ha fatto un cross intorno, mi pare, al sessantesimo, per come si è girata a crossato, ma... Io l'ho già detto, Leao è un giocatore importante, deve trascinarla dalla squadra, non può fare così poco. Cioè, perché va bene fare il fenomeno contro la Salernità, o la Sassuolo, o la Sampdoria, o... o non lo so, o il Bologna, ha un peso. Farlo nelle partite in cui devi essere veramente decisivo, ha un altro peso. E ripeto, l'avevo già detto l'altra volta, a me Leao piace tantissimo, però deve fare questo salto di qualità, deve essere lui che si trascina la squadra. Tra l'altro oggi mancava Teo Hernandez, perché sappiamo che quando manca Teo, comunque, non c'è un sostituto di livello, del livello di Teo, ok? E anche se Teo, io continuo a dire, nelle ultime giornate, in questa stagione, a me non sta piacendo, non sta rendendo come l'anno scorso, per esempio. Però è un Milan che fa veramente fatica. Adesso, se ho capito bene, la prossima partita dei rossoneri non verrà giocata da Ben Asser, perché era diffidato ed è stato ammonito. Cioè, e Ben Asser è uno dei pochi che si salva. Oggi a me non è dispiaciuto neanche Brian Dias, come non mi era dispiaciuto nell'ultima partita. Infatti parlavo con un mio amico milanista, e anche lui mi diceva che anche Brian Dias non gli era dispiaciuto. Però ragazzi, cioè, mi sembra anche lui un giocatore solo, che brancola lì nel buio, e non ci siamo. Cioè, dove vuoi andare così? Intanto, adesso dal Napoli sono 12 punti, quindi hai già quattro partite di ritardo. Ma se continui così, i punti aumentano. O riesci subito a ritrovare la rotta, o qui rischi, a mio avviso, rischi anche la posizione Champions, eh? Cioè, o inverti subito la rotta, o non esci. Hai preso tre gol dall'Inter e Supercoppa, ne hai presi quattro oggi, ne hai presi due dalla Roma, che è una squadra che comunque non è che tantissimo. Cioè, io credo, io credo che bisogna intervenire in una certa maniera. Davanti si crea poco. Cioè, è stato distrutto oggi il Milano. Oggi il Milano è stato distrutto, ragazzi. Distrutto. Distrutto. Secondo me, personalmente, questa sconfitta qui è più brutta di quella che ha subito la Juve a Napoli, eh. Perché comunque la Juve ha avuto addirittura la possibilità di fare 2-2 e poi è crollata dopo il gol del 3-1 e va bene. Ma qui il Milano non è praticamente mai stato in partita, non ha mai creato nulla. La Juve, almeno, qualcosa l'aveva creato. Cioè, oggi il Milano è stato annichilito. E ripeto, per quanto ci siano tanti meriti da parte della Lazio, che a me è piaciuto tanto come è riuscita a pressare bene oggi, però, ragazzi, hanno fatto sembrare Isai un giocatore di calcio. Io, veramente, il che è tutto un dire, eh. Il che è tutto un dire. Quindi, o lo dico adesso, o il Milano si sveglia o rischia la Champions, a mio avviso. Perché se quelli dietro continuano a spingere in questa maniera, vedersi magari l'Atalanta, vedersi magari la Roma, il Milano rischia, eh. Il Milano rischia. E mi dispiace dirlo, perché sapete che io nutro un grandissimo rispetto per il Milano e l'ho sempre detto, per me il derby d'Italia, vero, non era Juve-Inter, ma per me è sempre stato Juve-Milan, perché sono le due squadre più vincenti e più importanti d'Italia. Cioè, senza se e senza ma. Però, una sconfitta come quella di oggi, una sconfitta come quella con l'Inter e il pareggio con la Roma stanno lasciando, da mio avviso, degli strascichi tosti e importanti. Quindi, Pioli adesso deve essere bravo a invertire la rotta con l'aiuto magari di gente come Maldini. Devono essere bravi a venirne fuori subito. Subito, perché sennò rischiano veramente tanto. Va bene, ragazzi, io detto ciò, più che fare i complimenti alla Lazio, non voglio neanche poi troppo massacrare il Milan, nel senso perché è già stato massacrato fin troppo dalla Lazio, quindi direi che quello che vi ho detto già può bastare e aggiungo una cosa, ragazzi, assenze come quella di Maignan, assenze come quella di Ibrahimović, a mio avviso, a mio avviso, mancano. Mancano tanto, ma proprio dal punto di vista secondo me, anche proprio della personalità, perché credo che la personalità che ha Maignan non ce l'abbia Tataruzanu, la personalità di Ibrahimović lì dentro non l'abbia nessuno, quindi deve fare di più. Ma poi io vedo già più partite che lo vedo, Giroud, troppo solo, cioè che lì che poverino non più che dare qualche sportellata non riesce a fare. Non lo so, ragazzi, il Milan deve veramente trovare una soluzione al più presto. Quindi, complimenti a Guadalazio, nessun complimenti al Milan e alla fine chi gode di tutta questa situazione ovviamente è il Napoli. Io vi mando un forte abbraccio, vi invito a iscrivervi al canale, diffondete il verbo, mi raccomando ragazzi arriviamo a questi 500 dai ragazzi mettete like se avete piacere, attivate le notifiche, inutile che io ve lo dica, già sapete tutto. Un forte abbraccio, ciao.